Carnevale vuol dire anche sorpresa, come il corteo acqueo non preannunciato per evitare assembramenti, che ha fatto spettacolo lungo il Canal Grande. Una vera e propria parata d'apertura con imbarcazioni storiche e scenografie sull'acqua, come la sfera illuminata che ha ondeggiato nel Ciro di Venezia emozionando gli spettatori. Una ventina le imbarcazioni aremi tipiche della laguna, partite da Cava Indramin Calergi, sede del Casinò. A bordo, i costumi storici che hanno reso questo carnevale famoso nel mondo. Il doge, i medici della peste, il toro della compagnia dell'arte dei mascareri, la grande altalena per la Maria dell'edizione 20-21, acrobati insieme a tante figure oniriche e mitologiche a simboleggiare gli elementi cardine di questa festa, divertimento e bellezza. Spettacolo finale in bacino San Marco davanti a punta della dogana. 100.000 presenze in due giorni, superata quota 55.000 anche domenica. 25.000 agli stranieri, per la maggior parte francesi, 24%, inglesi e spagnoli 13%, tedeschi 7%.